Sì, oggi abbiamo proposto questa giornata, questo convegno per le nostre aziende e clienti sul welfare aziendale, argomento di grande attualità che meritava un iniziale approfondimento per illustrare alle aziende quelli che sono i vantaggi dell'introduzione di un piano di welfare integrato ai propri dipendenti. Oggi, sempre più in assenza di un welfare di Stato, le aziende devono premiare i dipendenti, devono ricercare quelle soluzioni che consentano di poter anche realizzare dei risparmi e contenere i costi del lavoro e quindi oggi questo incontro alle nostre aziende e clienti. Abbiamo portato qui un'azienda importante a livello nazionale o di edem nell'ambito della consulenza direzionale e Zucchetti Partner Tecnologico. Attraverso loro abbiamo illustrato molto velocemente quelli che possono essere vantaggi e come si realizza un piano di welfare aziendale. Ritorneremo sull'argomento perché riteniamo che sia di grande attualità e che meriti anche da parte del legislatore grande attenzione perché attraverso quello si possono realizzare dei contenimenti, del costo del lavoro e quindi dare anche una spinta all'occupazione. Il welfare aziendale è sicuramente una leva interessante, molto interessante per i dipendenti delle aziende perché permette loro di poter usufruire di servizi, di beni e di servizi che rispondono ai loro bisogni. È anche una leva molto importante per l'azienda perché apre un canale di dialogo con le persone che lavorano all'interno dell'azienda confrontandosi su quelle che sono le loro esigenze, i loro bisogni non solo di carattere lavorativo ma legati anche alla gestione della famiglia, del tempo libero e trovare un punto di contatto da questo punto di vista. È una frontiera, in questi anni le aziende hanno iniziato a lavorare a fronte appunto anche della volontà di riuscire a supportare i lavoratori nell'integrare il loro reddito e quindi rappresenta in questo momento grazie anche alla legge di stabilità un campo e un terreno di lavoro molto interessante sulle quali le aziende stanno facendo progetti, sperimentando, coinvolgendo le persone e ci sono in tutto il territorio nazionale delle esperienze molto interessanti. Non è sicuramente una contraddizione parlare di welfare aziendare in un periodo di questo tipo sicuramente l'elemento della disoccupazione è un elemento importante ed è per questo motivo che molte aziende stanno cercando di essere anche attrattive in un'ottica però di ottimizzazione verso quelli che sono dei candidati che possono potenzialmente essere i talenti del futuro. Sempre di più si parla di elemento critico del successo abbinando a livello aziendale l'elemento del dipendente e per questo motivo il welfare aziendale è uno strumento con cui l'azienda entra in una zona al di fuori di quello che è il comfort lavorativo e dell'attività lavorativa del dipendente entrando anche nella suo più aspetto più familiare. quindi è un elemento importante che il dipendente sicuramente può percepire come valore aggiunto del rapporto tra lui e l'azienda.